Quando si è in giro e quando si è in viaggio per esempio si utilizza il navigatore anche per avere direzioni quando si è a piedi si consuma comunque molta batteria perché si utilizza il GPS del dispositivo ebbene esiste un'applicazione molto intelligente che permette di risparmiare molta batteria ottenendo comunque lo stesso risultato Si chiama Smart Navi ed è disponibile gratuitamente nel Play Store Una volta scaricata e installata l'applicazione per utilizzarla e quindi per navigare senza consumare la stessa batteria che si consumerebbe quando si utilizza un navigatore GPS tutto quello che bisognerà fare sarà quindi avviare l'applicazione, andare avanti nella procedura guidata inserendo anche i propri dati fisici come per esempio l'altezza e seguire bene le indicazioni dell'applicazione Nelle impostazioni dell'applicazione potete scegliere il fornitore di servizi delle mappe per esempio il mio consiglio è quello di utilizzare Google Maps e inserire altre impostazioni che possono personalizzare l'esperienza utente in base alle vostre necessità ma fatto ciò il gioco è fatto tutto quello che dovete fare sarà inserire la vostra destinazione tenere lo smartphone sempre avanti a voi in mano e il dispositivo sfruttando l'accelerometro giroscopio e anche il contapassi proprio contando i passi fatti da chi lo sta utilizzando riuscirà a valutare in linea di massima la posizione del dispositivo e quindi potrà darvi le indicazioni di navigazione niente di più semplice e niente di più intelligente Grazie a tutti